Si fa sempre più frequente il ricorso alla cosiddetta social housing. Come abbiamo già documentato, il Comune Capologo ha avviato una collaborazione con l'Istituto Autonomo per le Case Popolari al fine di trasformare la Casa di Riposo Madonna delle Grazie di Via Grotta Santa in una cittadella della solidarietà. Un'iniziativa che si inserisce nell'ambito del piano integrato locale, atto propedeutico al recupero funzionale dell'edificio per il cui progetto, l'ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori Edile di Siracusa, si è fatta avanti, proponendo la realizzazione del progetto senza alcun onere per gli enti pubblici locali. Intanto il Comune Capologo ha avviato la procedura legale per il pieno recupero della Casa Monteforte, struttura di Via Pompeo Piccherali, donata all'ente dall'omonima proprietaria con un vincolo di destinazione d'uso a casa riposo per donne anziane e bisognose autosufficienti. Dallo scorso mese di luglio gli uffici comunali, coordinati all'assessore Rita Gentile, hanno effettuato sopralluoghi nell'immobile, verificato le panimetrie, la documentazione catastale che ha confermato la presenza di persone che occupano abusivamente alcune parti della struttura. Da qui l'avvio della procedura legale per indebita appropriazione nei confronti di terzi abusivi.